Anche quest'anno il premio Igozzo Città di Monopoli ha premiato le eccellenze pugliesi che con passione, dedizione e resilienza hanno raggiunto importanti traguardi partendo dalla Puglia. Nella suggestiva cornice di Calabatteria, la diciannovesima edizione del premio è stato condotto da Gianni Tanzariello, patron della manifestazione, e da Ingrid Muccitelli, conduttrice di Rai 1. Come ogni anno sei riconoscimenti. Per la categoria Giovani Eccellenti il premio è stato conferito a Giuseppe Guida, 23 anni e già uno dei migliori giovani talenti mondiali nell'arte dell'intaglio tailandese su elementi di frutta. Per la categoria Cultura il premio è andato alla scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi, quest'anno è stata tra i 12 finalisti del premio Strega. Premio per la categoria Generazione Donna Marisa Melpignano sin dagli inizi degli anni 90 ha creduto e investito nel turismo in Puglia trasformando le strutture di famiglia da Masseria San Domenico a Borgognazia in un simbolo internazionale di eccellenza contribuendo in maniera significativa all'economia della regione. A Giuseppe Brindisi il riconoscimento per la categoria Informazione, una lunga carriera giornalistica maturata in tutti i settori della cronaca per anni volto di principali tg di Mediaset. Il premio per lo spettacolo è andato ad Antonella Albano, prima ballerina del teatro La Scala di Milano, protagonista di numerosi balletti classici e contemporanei e di stelle della danza quali Roberto Bolle e Alexander Volkov. Un riconoscimento molto speciale quello assegnato dall'amministrazione comunale di Monopoli che ha voluto attribuire il premio della città alla giovane Dorico Lavitto, miracolosamente sopravvissuta all'aggressione del suo ex compagno lo scorso novembre e oggi un esempio di coraggio, forza e amore per la vita. La serata è stata impreziosita dalle note della Big Band Walter Tomasino, diretta dal maestro Leonardo Lozuppone e dalle incursioni ironiche legate ai temi di attualità di Pinuccio al secolo Alessio Giannone.